ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video non c'è più il cavo perché l'ho tirato via e quindi è meno fastidioso e oggi giochiamo invece a tira un amico che altro non è che l'ennesimo gioco di roblox che ha giocato con alice dove io farò schifo comunque praticamente la dura tirerà un carrettino con il sottoscritto che starà sopra sto carellino e io potrò tirare solo un freno per evitare di cascare giù mentre lei dovrà cercare di non farmi cascare giù perché se caschiamo giù dobbiamo ripartire tutto dall'inizio e quindi speriamo di non fare una brutta figura e vediamo un po come va bene siamo bravissimi allora dobbiamo andare qua si qua vado nel carrettino si stava per inserire quell'altra brutta ok perché c'è anche bomba e razzo cosa è bomba e razzo io qua ho bomba e razzo anch'io ce l'ho è tipo uno shop non lo so cosa se frena ok 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 non vado sulla quella ma cosa stai facendo perché ogni tanto cadi no 30 fai no aspetta se lo faccio anche noi siamo caduti metti ritorna all'obby dai proviamo a fare con appunto facciamo una volta che c'è quella lì mettiamoci qua 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 si pregata a tender dice non mi dice entra si prega da tenere si prega di attendere si prega di fare coppia no punto di controllo 1 ecco ma no entra ecco abbinamento con la z tamburia eccolo coppia coppia che c'ho cliccato eh che succede fai esci proviamo un altro questo si prega di attendere ok ma tu fai coppia di solito si coppia punto di controllo 1 tu hai il punto di controllo 1 non c'è scritto niente vabbè faccio vabbè fai non fare questo vediamo che tu hai sempre fatto no brandon brandon vai via perché sei incastrata lì dentro aspetta zero personaggio brandon vuole giocare con qualcuno ma io non voglio giocare con brandon brandon no mettiamoci qua no vaffan brodo brandon va via basta va via brandon fai entra non ci va non ci va mi sei incastrato dentro a zero personaggio brandon no mi ha fatto uscire basta ha rotto eh vai con lei ma non riesce a muoversi il mio si inchioda ogni due secondi vai via prendo parca roba prendo va via no qua 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 questa no va ok ok il video di oggi sarà cerca di giocare senza brando brando ma vai c'è judo vai qua c'è judo gioca con judo non per le scatole vieni azzura coppia ma non va dai continua a cliccare verano eh non va eh si che va vabbè dai facciamo che io ti porto che magari a me funziona proviamo entra senza brando perché a te va vabbè dai facciamo che tu vabbè dai oggi tira l'azzurra tira l'azzurra tira l'azzurra supera brando vai tanto che non è capace di stare in piedi va via brando spostati va piano non correre troppo perché se no mi butti giù ok vai perché c'è una piccola salitina qua cosa fai ah fai io si ah si vai vai no vado col verde io adesso non ho si ma io ho un'arma aspetta vai vai ma che verde che è successo ma cosa è successo si sono caduta è che voglio provare a vedere se riesco a farlo io adesso no c'è brando vediamo vai 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 adesso funziona per colpa di brando non riuscivamo che sei azzurra si si vai 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 tranquillo no no ho fatto uno zoom indietro giù è giusto da solo non lo so vai 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 avanti non mi dirmi cosa devo fare invece si va che sono tua mamma aspetta perché qua c'è il ponte aspetta tirami un po' indietro ok vai sono più sono più più fatta di te vai vai oddio le palline io le odio vai bravo tu premi mai il freno si lo sto premendo perché? ti vedo che slitti molto in avanti non corre vedi vedi che non l'hai premuto il freno non lo sto ancora premendo vai avanti no dovevi premere il freno senti tiro io fammeli fare fammeli fare ma non sei bravo perché tu non sai usare il carrellino non sei bravo guarda che lì dovevi premere tu il freno non sei bravo dovevi premere il freno ma io l'ho premuto assolutamente no vuoi vedervi? l'hai premuto dopo far che lo vedrò il video devi premere prima di uscire giù spostateli ragazze scusate ok ma perché? devi partire nel momento in cui sono partito io ma aspetta un attimo ma le educate è il guardiano della casa ragazzi ok piano bravo va aiuto sono morto sono morto mi sta spaccando tutto il carrellino non mi sai portare guarda mi si sta spaccando tutto il carrellino mi si è bloccato il mio guarda mi si sta spaccando aprivi il freno no signore dai fai tu adesso eh che io sono un po' bravo eh sì eh che sono arrivati no non romperci anche te eh per piacere vai 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 ma papà eh però ci prega di attenzio dai ok 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 sappiamo dai vai stai andando troppo veloce così così non cade ok vedi io quanto sono bravo vabbè che stanno andando all'indietro non lo so freno io freno cosa vuolta se te che non mi metti freno adesso sono io adesso sono io adesso è culpa mia adesso faccio io davanti a testa un po' io cado ma che perché ah c'è già uno dentro qua vediamo qua la 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 ok dai perché ce la facciamo dai io tengo sempre venuto il freno non serve sì invece serve ci sono scivola da tutte le parti visto e poi il more tirti su guarda che roba guarda la precisione guarda qua che roba adesso si va su io tengo sempre il freno ah no se mi tiri il freno qua non vado proprio ok oh quasi eh devo aspettare il verde non mollare il freno non lo mollo niente quando sbloccarlo ah quasi vai pronti no no azzurra però già mi sei no azzurra no no azzurra ce l'abbiamo fatta no ma io lo sei te ma c'era il masso io lo sei te ma era il masso e ora il masso vabbè dai posto così no no abbracciami 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 se tu non sia stato in grado di trascinarmi con il mio carretto io ti voglio sempre bene vabbè è colpa del freno no dai cioè però vabbè a parte che scivola ovunque questo carretto c'è una cosa è difficilissimo da riuscire infatti siamo stati mati è difficile no veramente non so se allora eh no no piano bene quando farò il montaggio del video si vedrà chiaramente che chi è arrivato più avanti a trascinare il carretto io è il tuo papà io no no assolutamente io sono arrivato dopo i massi tu i massi non li hai neanche mai superati mi hai fatto cascare giù un sacco di volte addirittura subito all'inizio ma stiamo scherzando sono stato il più bravo perché è colpa del personale è colpa del personale sì è colpa del freno è colpa delle ruote è colpa della georgina è colpa di romina 12 vabbè è colpa di brandon è colpa di brandon non si fa vabbè insomma speriamo che il video vi sia piaciuto mettete like condividete commentate e seguiteci sempre perché mi raccomando bisogna seguire la pagina perché altrimenti vi perdete tutti questi contenuti di altissima qualità e come e vedete persone che sanno giocare benissimo esatto esatto persone che non sanno neanche come cavolo si prende in mano un joyper praticamente lui vabbè alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.